E' arrivato Giampa e Caputa, sono contento perché sono due giocatori che per motivi diversi hanno comunque una grande motivazione, grande fame di dimostrare. Uno perché è giovane e comunque ha tanto da lavorare però comunque ha delle buone qualità anche su quelle che cercavamo, c'è una buona profondità, una buona tecnica. L'altro perché oltre ad essere un ottimo giocatore che sta ancora bene fisicamente, è sicuramente un uomo spogliatoio importante che questa squadra necessitava, quindi la dinamica di gruppo sicuramente si è accresciuta, quindi anche la tipologia di calciatori mi piace e qualora ci fosse qualche altro giocatore che venisse a Catanzaro, questa deve essere la tipologia, gente che ha fame, che ha spirito di appartenenza e che ha grande voglia, al di là delle caratteristiche tecniche che poi servono. Stava dicendo che non possono essere impiegati? No, Caputa può essere impiegato, 100% a disposizione, Giampà c'è questo, però più sì che no, da come mi ha detto il segretario, vediamo. Ci potrebbe essere una questione di tempi, non so se si fa tempo a ratificare il contratto o no. Senti, lo diceva squadra vecchia, perché può capitare che i giochi da 4-5 devono andarsene e queste potrebbero essere un'indica? Beh, io diciamo che mi sono appellato molto alla professionalità dei calciatori, perché in questo momento, fino a che il giocatore indossa una maglietta deve dare tutto, poi nel momento in cui ci fosse una volontà e una situazione di trasferimento, amen, però fino a che uno è con il Catanzaro deve dare tutto, quindi da questo punto di vista spero e sono convinto che non ci saranno da questo punto di vista atteggiamenti superficiali, perché comunque si è pagati tutti fino all'ultimo giorno. Poi vediamo, perché non debbono portare queste situazioni personali nel gruppo, è una cosa importante, perché comunque c'è un gruppo che ha un impegno da svolgere e quindi non deve portare queste situazioni, qualora ci fosse qualcuno che chiaramente ha manifestato la volontà di andare via. Poi queste sono tutte situazioni sul mercato, vi anticipo perché chiaramente non è che uno si metta a fare nomi né cognomi di chi può essere in entrata e in uscita, cioè le idee nostre sono chiare, sono state trasferite al nostro direttore, al nostro Presidente, c'è da conciliare le esigenze del Presidente con quelle tecniche e quindi speriamo che si faccia un buon lavoro. Ma quanto pare sulla professionalità del gruppo, almeno pare ci sia il loro perplessità? No, però io devo dire che il gruppo ha lavorato bene, con impegno, questi giorni, quindi stanno rientrando tutti anche dal punto di vista atletico a disposizione. Bene, adesso ci sono giusto un paio ancora di situazioni da riassorbire, però non penso che siano lunghe quelle di Camara e di Pagano. Vedremo, vedremo quello che succede. Oggi, l'importante è che la cosa preeminente è che ci sono le partite, ci sono tre partite che sono anche ravvicinate, perché tra martedì e sabato sono tre partite importanti e quindi la concentrazione, diciamo il focus attentivo della squadra deve essere solo sulle gare, quindi non può essere su altro. altro, c'è la gente che ha i ruoli apposta per pensarsi. Queste grande linee, scusa, ma a grande linee è il salasso del gruppo, a che punto è? Ebbè, è stato fatto, per adesso è andato via solo a livello ufficiale, è andato via un giocatore e se ne sono arrivati due. E poi ci dovrà essere qualche cosina, qualche ritocco, ancora ci deve essere, perché io ho fatto le richieste alla società. È certamente una squadra non da rivoluzionare, perché non è una squadra che sta ultima, è una squadra da ritoccare, da rimodellare e da riequilibrare. Ecco, quindi ancora qualche situazione c'è da fare sicuramente. Però non sono una rivoluzione di 7, 8, 10, 12 persone, perché insomma così smonteremmo una squadra e poi per rimontarla... Comunque sarà parlato di 7 in uscita. Cioè, voglio dire, tecnicamente voglio dire, è una squadra non da rivoluzionare, da riequilibrare, da ritoccare, da cambiare qualche situazione. Però non da smontare completamente e poi da rimettere a posto, perché oggi, in questo momento, delle partite eccetera, smontare tutto e rimettere a posto sarebbe un lavoro in mane, perché poi ci sono le gare. Quindi in questo momento voglio attenerci ai ragazzi che abbiamo. Che difficoltà hai incontrato nell'accompagnare questa, tra virgolette, transumanza, cioè questo rinnovamento? No, io ho già dato le mie linee guida, quello che può servire. Poi ci sono, ecco, io sono un po' a ballare in mezzo tra le situazioni, quelle tecniche che servono alla squadra e conciliare con quelle che poi servono anche al Presidente, perché abbiamo detto che il Presidente ha scelto una certa strada. Quindi cerchiamo di conciliare, certamente non è facile, perché stare in mezzo a questa situazione non è facile. Però, ecco, è quello che dicevo prima, ci sono le partite, quindi in questo momento, ripeto, c'è gente che è preposta a pensare su quello e la squadra deve essere attenta sulle gare, perché se no ci perdiamo e non riusciamo, ci sono dei punti in palio pesanti, dobbiamo riniziare subito col passo giusto, dobbiamo ricreare, quello dicevo ai ragazzi, quella vigilia della partita con la Regina, insomma, con una grande concentrazione, una grande ferocia. non deve essere solo perché magari uno si trova con l'acqua alla gola o in situazioni particolari, deve essere l'abitudine, quindi questa è una squadra che proprio per il DNA così tecnico che c'ha, se non c'ha un presupposto di grande concentrazione agonistica, poi va sotto, perché questi sono campionati in cui, lo sappiamo, il fattore agonistico è molto importante. Delle volte è preeminente su quello tecnico. Ha detto di quello che ci siamo letti, questa rivoluzione comunque tiene conto anche del fatto che secondo me, se si ricreano tutte queste caratteristiche e anche le motivazioni, a me questi sei punti non mi sembrano neanche tanti. Si può fare tutto nella vita, nel bene e nel male, quindi noi dobbiamo lavorare e cercare di rimettere, di dare il massimo e di, ripeto, riequilibrare un po' la squadra, perché poi sono fiducioso, perché comunque anche dal lavoro che vedo c'è crescita su certe situazioni, poi chiaramente questa crescita deve essere anche tramutata in risultati, perché poi... e quindi tutto può essere. Oggi però si deve vivere la giornata senza nessun proclama, niente, perché oggi saremmo un po' fuori luogo fare i proclami, dire riprenderemo, faremo. Facciamo giorno dopo giorno, perché questo è importante. E sta lavorando col 4-4-2 perché come dice... Diciamo che sto lavorando col 4-4-2 perché è un modulo che magari con le due punte, con i quattro centrocampisti, con due esterni di lavoro, con due esterni di lavoro, mi sembra un modulo un po' più compatto, un po' più compatto che potrebbe far bene. Però nel cassetto abbiamo anche sempre il 3-5-2 che può essere una soluzione, che può essere sempre valida perché magari è un po' più difensivo, però magari tiene il campo con più sicurezza. Però sì, è vero, stiamo lavorando su questo 4-4-2, certamente... Sì, il presupposto è che tutti questi giocatori comunque diano sempre una mano alla squadra. Sono convinto che se ci mettono questo discorso i giocatori tecnici bravi che mettono il lavoro per la squadra, come hanno fatto per esempio nella partita con la Regina al di là dell'avversario e del risultato, si può far bene. Si è detto già da giorni, si è parlato di un giocatore Burrai che aveva lei, vero? Pare che avesse avuto un contatto diretto, ce lo può confermare? Chi? Burrai, come si chiama? Burrai è un bel giocatore, però non ci siamo solo noi su di lui, insomma. È un bel giocatore, cioè è chiaro che i giocatori forti e il mister li vorrebbe, però qui, come ripeto prima, c'è da sposare diverse esigenze, quindi oggi i giocatori... Lasciamo perdere il discorso del nome specifico, in generale, un giocatore importante oggi, per venire qua ci devono incastrarsi due o tre situazioni. Il nome si fa perché è stato uno sul giocatore? No, è un giocatore forte, come ce ne sanno tanti altri, sicuramente. Anche di carattere. Per prendere uno come un altro giocatore, eccetera, si devono incastrare delle situazioni. Non si può solo prendere, tac, e mettere. Non si può. E quindi, su di lui, ma come su tutti, voglio dire. Sì, sembra una questione dell'altro marcio, se dovrebbero andare a cuore... Questo, dicevo, si devono incastrare delle situazioni particolari. La Lupa-Roma è una squadra che ha giocato un bellissimo calcio nella prima parte del torneo, veramente da dietro parte, è una squadra che ha giocato palla a terra, io l'ho vista, mi è piaciuta tanto. Poi ha avuto un periodo di flessione, gli ultimi tempi, mi sembra che negli ultimi 4-5 partiti abbia fatto pochissimi punti. Sono andati via un paio di giocatori, uno mancherà, perché Consonna comunque rampilassò la difesa. Un altro, Perrulli, che è un giocatore importantissimo davanti, è andato via, perché comunque è andata in una squadra importante, però hanno preso 3-4 giocatori che, seppur vengono dalla Serie D, sono giocatori che sono forti. Quindi, attenzione, perché qualcuno dice che è una Lupa-Roma in disarmo, che è smontata. Non è vero, questa è una squadra che gioca bene al calcio, la partita è difficile, dura, e quindi mentalmente bisogna affrontarla in maniera giusta. Anzi, ti do di più, per come siamo fatti noi, questa è la partita più difficile delle tre, perché quando si gioca contro i squadroni, Juve Stabia, Benevento, che saranno le partite dopo, comunque la motivazione è, le squadre sono forti, la motivazione sono più alte, eccetera, c'è lo scontro, c'è la... Cioè, e invece questa è una partita che noi dobbiamo assolutamente avere un approccio giusto, perché poi è una partita che viene dopo una sosta, quindi di solito gli approcci sono sempre un po' particolari, e soprattutto, secondo me, oggi con un risultato positivo, giustamente poi potremo avere grande fiducia nel nostro lavoro, quindi lo ritengo un risultato molto importante in questo momento. Dobbiamo fare un risultato positivo, dobbiamo fare una grande partita. Me l'aspetto dai calciatori, perché in questo momento lo posso pretendere, perché la squadra comunque ha dato una dimostrazione di avere un qualcosa in ampiù, anche sul lavoro che viene fatto quotidianamente sul campo. Quindi mi aspetto una grande gara da parte dei calciatori.